Siamo uno studio di commercialisti lavoriamo a grado siamo in attività dal 1991 quindi quest'anno lo studio festeggia i 30 anni siamo composti da due professionisti e quattro collaboratori ci occupiamo principalmente del settore hospitality anche se stiamo cercando di diventare uno studio meno generalista per cercare di fornire dei servizi più specifici al cliente in modo da supportarlo in modo più qualificato Inizialmente l'obiettivo era dematerializzare i processi documentali abbiamo iniziato volendo eliminare tutta la carta tutti i faldoni tutto il toner consumato in ufficio che è una cosa troppo onerosa sia in termini di spazio che in termini di di denaro e che anche non fa molto bene all'ambiente una volta iniziato questo percorso verso la digitalizzazione del ciclo documentale e ci siamo fatti un po prendere la mano abbiamo deciso di digitalizzare tutta la vita dello studio le soluzioni adottate sono le soluzioni di firma elettronica remota e di archiviazione sostitutiva e di archiviazione a norma per quello che riguarda i documenti e il beneficio è legato al fatto che si libera molto spazio all'interno dell'ufficio non è non si è più vincolati al trasportare spostare documenti e faldoni e non è più necessario far venire il cliente presso lo studio per effettuare una procedura di firma che si può fare comodamente dal cellulare per quello che riguarda invece il lavoro abbiamo deciso di utilizzare un gestionale in cloud e anche un centralino in cloud in modo da essere completamente svincolati dallo studio e anche l'archivio dei documenti è stato portato in cloud nel nostro percorso di digitalizzazione siamo stati accompagnati da team system è stato un compagno di viaggio che ci ha seguito step by step e lavorando assieme abbiamo potuto migliorare molti dei servizi dello studio cercare di svincolare la visione del commercialista come soggetto che fa solo pagare le tasse digitalizzare al massimo i processi a basso valore aggiunto ed efficientarli in modo da poter liberare tempo per poter erogare servizi ad alto valore aggiunto che ci consentono di essere un vero partner di business per il cliente in modo da potergli dare delle informazioni importanti per lui come informazioni finanziarie e formazioni costanti e questo si può fare anche con strumenti innovativi che erogati in system come check-up imprese l'altro obiettivo che ci siamo prefissati è di diventare una quasi web based company e quindi svincolarci completamente da o quasi completamente dallo spazio fisico abbiamo la possibilità di utilizzare degli strumenti che ci consentono di lavorare da ovunque e rivolgerci a chiunque e quindi abbiamo intenzione di ragionare in prospettiva secondo questa visione di rivolgersi a una clientela che è in grado di apprezzare questa cosa in questo momento stiamo cercando di dedicarci al mondo del social ed è un mondo in cui crediamo molto e puntiamo molto per quello che riguarda la comunicazione quindi la digitalizzazione per noi è su continua una ricerca continua di nuove modalità per andare ad approcciare il lavoro e per migliorare e perfezionare quello che è il nostro lavoro team system team system Grazie a tutti.